Musica Ciao a tutti ragazzi sono Corridan Anche una volta ben ritrovateci al mio canale Proseguiamo con la nostra serie di The Hunter Primal E vedete bello il mio personaggio che E che cazzo è un moicano? Ma ci ha tagliati la pelli Vediamo di Di sopravvivere insomma Io spero Il più possibile Questa volta Ma soprattutto vorrei anche trovare Delle nuove specie di dinosauri E quantomeno trovare delle altre casse E dei nuove vanposti Anche perché al momento L'unica arma che ho per difendermi Con l'inventario I Ho un frammento di mappa L'unica arma che ho per difendermi è la spada Quindi non mi sembra proprio il caso di fare tante furbi Ma dovremmo armarci per trovare almeno un fucile da caccia Un fucile a pompa o qualcosa del genere Ma soprattutto andrò a nord Perché voglio esplorare quest'altra porzione di mappa Quindi andiamo un po' avanti e vediamo Cosa ci riserva Questa avventura Tra l'altro sta calando Anche la notte Guardate laggiù in fondo ragazzi Un esemplare di Ovirator Che mi sta seguendo Da quando ho iniziato a fare il video Perché Questo non è Ark Cioè nel senso Qui anche ti fiutano Ti sentono Ti seguono E sprintando E sprintando tutto il tempo Correndo L'ho attirato Ed ora è qui che sta cercando la strada per seguirmi Quindi mi sembra il caso Di levarsi anche velocemente dai coglioni Ho trovato delle tracce di triceratopo Oh ma ancora che mi seguo quello stronzo Tracce di triceratopo Qui Che vanno in quella direzione Sembrerebbe Sì sì Sono proprio di triceratopo Quindi oltre questa collina Ce ne dovrebbe essere uno Che io ovviamente Infatti ci fa vedere Guardate che figata Ci fa vedere l'ultima direzione conosciuta Che è questa di qua Davanti cazzo Oh sto gioco mi mette Un'ansia Ragazzi peggio di Di un survival horror Per davvero perché Cioè in questo gioco Capisci di non essere Il cacciatore come su Ark Ma qui sei veramente la preda Dovrebbe Se ne parlava Dovrebbero metterlo anche su Ark Il fatto che i dinosauri Ti fiutano Ti seguono Non ti danno più pace Eh ma secondo me lo metteranno Andiamo un po' a mappa Ne sono ancora abbastanza giù Cazzo Cazzo sono in due ragazzi Sono in due Arzati porca puttana Arzati Merda 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 ragazzi Sono in mezzo a due Viraptor Eh vabbè ciao Non c'ho più stamina Uno è scappato Oh Attaccalo Porca puttana E ho finito la stamina Ho finito la stamina ragazzi È la morte È la morte È la morte Ho finito la stamina Ma vaffanculo Ce l'ho più l'arma La dovrei trovare qui Che poi tra l'altro Non era un uvi raptor Era un utaraptor Il bastardo Qui ci dovrebbe essere La roba Infatti si Spada E porzione di mappa Quindi abbiamo le nostre cose Per partire Vediamo da dove cazzo Insomma ha fatto Spona stavolta Porca puttana Accidenti Eh sono morto qui Quindi dice Potresti tornare al cadavere Perché come in un In un survival Potresti andare a riprendere la roba Ma tanto non c'avevo niente Quindi ripartiamo Così Avviciniamoci all'acqua Vai Ok Hanno molta distanza A nord Abbiamo una cassa Guardate Tra l'altro I panorami E l'isola Come detto nel precedente video Veramente immensa E ragazzi Vi ricordo Ora Prima di farlo Poi lo farò anche a metà video Iscrivetevi al mio canale Twitch Perché tutte le sere Sono in live Dal lunedì al venerdì Dalle 8 Non più dalle 9 Dalle 8 alle 10 di sere E questo È uno dei giochi Che giocherò di più in live Perché ce l'abbiamo in tanti Ce l'ha Cry Ce l'hanno anche altri amici Quindi Ci giocheremo veramente tanto Anche di squadra Quindi Se vi piace Iscrivetevi al canale Twitch Perché lo seguirete anche in live No Addirittura Non una cassa Ma due Speriamo che Dio Ce la mandi buona Una pistola Un arco Un arco Un arco Tanto sorbo sci Ma non chiedo chissà cosa Dovrei essere in zona Della prima cassa Che dovrebbe essere per qui Non vedo niente O dove O dove l'hanno nascosta Ah eccola qua Allora Ti prego Vabbè Un altro frammento di mappa E siamo a due E munizioni calibro 44 Quindi aprendo la mappa Mi ha rivelato qualcosa di nuovo? No ma i frammenti di mappa Non li devo mettere Ah si ecco Esatto Qua giù c'è qualcosa Perché vanno messi I frammenti di mappa Vanno messi sulla tab Del Del GPS E ci rivelano Una nuova parte di mappa Quindi andando Qua giù In cima Qua su in cima Sarà qualcosa Buona Arrivare là giù Comunque la seconda cassa È vicina Vediamo un po' cosa c'è Salita Sfiancante Dimmi Ho almeno un altro frammento di mappa O davvero Dammelo un arco Porca Eva Ecco lì Un'altra cassa Bing Bing Ah Fialetta curativa Ha detto Ha detto Pio E Frecce semplici Quindi mi mancherebbe O Di comprare l'arco Perché si può comprare Anche copunti Avete visto Abbigliamento E quant'altro Che è una figata Che poi la storia del gioco È quella che noi Siamo stati mandati Da questa compagnia Su questo pianeta Per liberarlo Perché poi deve essere Terraformata E quindi ci mandano A fare il cacciatore Nel frattempo però Mi curo Perché ho perso un po' di vita Ok Perfetto Col mio spray Al peperoncino verde Che tra l'altro Quante ce ne ho di cure Ce ne ho ancora due Amentati Vediamo se trovo Qualcos'altro Mi sembra a me Un uovo O è un uovo Però non mi dice di cosa Meno 20% Aroma mimetico Per 58 secondi Che figata Che figata Praticamente Tenendo l'uovo Portandosi dietro l'uovo Abbiamo Meno 20% Aroma mimetico Cioè che quindi È un bonus O un malus Non ho capito Visto che dà meno E non più Cioè riusciamo a mimetizzarci meglio Con quell'uovo addosso O cosa Forse dà Però mi poteva dire Almeno qui Il GPS Se era un uovo Di insomma Di che razza Di che dinosauro Comunque ormai Procediamo qui Lungo la costa E si guarda Se si trova E poi Nel prossimo episodio Andremo a vedere Questo cavolo Di punto esclamativo Altre tracce Di Uta Raptor Che Vanno in questa direzione Vediamo un po' Che traccia è questa Intanto abbassiamoci Perché non vorrei Avercela sopra Questa che traccia è? Sempre lui Sempre il bastardino Però questa volta Vanno in quell'altra direzione Cioè sembra che sia spostato Da lì a qui E poi si è andato Verso quella parte Di là Quindi io me ne vado Perché non voglio Percire niente A che fare Anche perché Sono armato A cazzo di cane Però Che cazzo è Questo sono? Questo che è? Sempre Uta Raptor Eh vabbè La specie dominante Su quest'isola Qua davanti a noi Un'altra cassa E poi un'altra Ancora più A destra Quindi che Dio Ce la mandi buona E ragazzi Veramente Sto gioco Mi sta gasando Da morire C'ha avuto delle Conte esclamativo C'ha avuto delle valutazioni Abbastanza negative Su Steam Diciamo Sono più quelle negative Che quelle positive A me Mi sembra una gran figata Sì è vero Che è un gioco Da scarpinata Deve camminare Però cioè Mi sento veramente Sia cacciatori Che predano Questo gioco A differenza di Ark Vabbè che Una volta che ti sei preso Un T-Rex Uno Spinosauro Spacchi tutto Sono due giochi differenti Non ci piove però Allora munizioni Per il fucile a pompa E altre medicine Non mi fa lo stack Sì Iniziamo ad avercene sei ragazzi Quindi un po' Nel momento del bisogno Almeno mi posso curare E iniziamo a ragionare Già un po' di più Prossima cassa Che c'è Tra l'altro La parte qui L'ho esplorata praticamente tutta La parte est Trovi una cassa Dove è? In fondo Una scarpata Aia Se mi spezzo le gambe Ora Se mi spezzo Le gambe Ora Dai 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 Allora te mi prendi per il culo Mi fa trovare frecce Mi fa trovare munizioni Mi fa trovare tutto Uh Un accampamento Un accampamento Un accampamento Ragazzi abbiamo trovato Un accampamento Addirittura E ci ho anche messo Il punto Vediamo a quanta distanza è da me Ah Nemmeno tantissimo Che dire ragazzi Spero che questo gameplay Vi sia piaciuto Ce ne saranno tantissimi altri E vi ricordo Gioco che tratterò molto Anche in live Nei prossimi due episodi Andremo a vedere Qui due nuove punti Che abbiamo scoperto Prima la base L'accampamento E poi andrò a prendere Il punto esclamativo In cima Che dire Secondo me È una figata di gioco È molto sottovalutato Ma rende molto di più Giocandolo insieme agli amici Ragazzi se il video vi è piaciuto Lasciate un pollice su E ricordatevi Primo link in descrizione Iscrivetevi al mio canale di Twitch Perché ricomincio Tutte le sere a fare live Da lunedì al venerdì Sabato e domenico Ovviamente esclusi Dalle 8 di sera Alle 10 Quindi iscrivetevi al canale Perché si torna a rullare Fatevela prendere bene Ciao